Lunedì 11 ottobre, questa mi pare la notizia molto importante che aspettavamo da tempo, i teatri e i luoghi della cultura in generale saranno rieperti al 100%, quindi venite, venite a teatro e sarete ovviamente ospitati in tutta sicurezza. Si apre con i migliori auspici la prima parte della stagione teatrale di Porto San Giorgio che traghetterà l'amministrazione comunale fino alla fine di dicembre. Primo appuntamento, questo mi pare insomma da sottolineare con una commedia brillante che è una prima di un'associazione culturale del nostro territorio che si svolgerà sabato 16 e domenica 17 ottobre, quindi è una prima dal titolo Il Club delle Ex Mogli, ovviamente sarà una commedia brillante, ma abbiamo scelto di aprire questa stagione, questa stagione tanto sospirata con la valorizzazione di un'eccellenza della realtà del nostro territorio. Due gli appuntamenti fuori abbonamento con l'AMAT che saranno la parte più prestigiosa di questo avvio di stagione. Come AMAT siamo molto felici di collaborare con l'amministrazione comunale e con Procianio Teatro per questi due appuntamenti che sono una prima parte appunto del cartellone invernale e si apre il 22 ottobre con Sergio Mugniz, con L'onda che verrà, che è un racconto di Sergio Mugniz e della sua passione per il mare, per poi proseguire appunto il 13 novembre con una commedia brillante che è il test con la regia di Roberto Ciuffoli e con in scena dei attori molto brillanti in cui appunto una coppia è al centro di questo test, ossia preferiresti avere oggi 100.000 euro a disposizione o tra dieci anni un milione di euro. La collaborazione con Procianio Teatro prosegue con tanti spettacoli, il primo sarà Alma Mater dalla stagione di prosa precedente che ha visto la riapertura del teatro a maggio scorso dopo il lockdown. La prima cosa che faremo è riproporre Alma Mater che è uno spettacolo, la nostra produzione nuova dell'anno scorso, poi riproporremo la quarta mi sembra edizione di Sottopassaggi che è un festival di teatro contemporaneo che dovrebbe partire venerdì 10 dicembre con Frichigno della piccola compagnia impertinente di Foggia, poi ci sarà una compagnia nata teatro toscana, ci saremo noi con una nostra nuova produzione Adriano Pulce che è tutta insomma scritta da Lorenzo Marziali che sarà in scena insieme a me e Stefano, una regia collettiva di Procianio Teatro e un quarto spettacolo ancora in via di definizione probabilmente.